Ecco il fontanile della Via dei Pozzi, bellissima, mettiamola un po' così, oggi che è sotto questo che si muove, acqua scusa qui, bella, vedi che ci dice quella natura. Quando arriva il caldo, tutti gli appassionati escursionisti, tutti quelli che fanno le gire qua a piedi, vanno dopo che tutto un via vai, fa passeggio per sport, soprattutto per digerire e molti per tornare a casa e fare un lato pranzo, vabbè guarda che bel panorama, là sopra c'è il fermentino, la fra pochi giorni ci va, a volte smuggia la neva, bella, specialmente a questa e ora siamo alle 13 e 13, ecco la mia auto. Grazie. Grazie.